Sono dunque 21 le liste che hanno depositato alla Corte d'Appello di Trieste la propria candidatura per le elezioni del 25 settembre. Di queste ben 9 si possono definire antisistema. Un numero tutto sommato corposo, visto che la regione Friuli-Venezia-Giulia conta soltanto 1.200.000 abitanti. Da questo gruppo si trovano i nomi noti dei partiti dell'arco parlamentare, così come le formazioni di recente Costituzione. Nella coalizione di centrodestra si trovano Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e noi moderati. In area centro-sinistra figurano il Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra Italiana, più Europa e Impegno Civico di Di Maio. Quindi il terzo polo con azione e Italia Viva, il Movimento 5 Stelle, Mastella noi di centro, Unione Popolare di De Magistris. Tra gli antisistema si annoverano alcuni dei movimenti no-vax come Vita di Ugo Rossi e Marcello Di Finizio e Alternativa per l'Italia, No Green Pass, ultimi a presentare la lista proprio allo scadere dei termini. Ci sono inoltre il Partito Animalista, forze legate alla destra come Forza Nuova e Destre Unite e altre di difficile collocazione. È il caso di Italia Sovrana e Popolare, contro l'Euro e contro la Nato, frutto di una combinazione tra il Partito Comunista di Marco Rizzo, Azione Civile di Antonio Ingroia e ancora Italia di Francesco Toscano. Poi Gilea Arancioni, per l'Italia con Paragone, il Partito Pensiero e Azione. In palio ci sono 12 posti a Roma per i candidati dei collegi regionali, 8 deputati e 4 senatori rispetto ai 20 totali della passata legislatura.